E' nato! E' nato! E' nato! E' nato! E' nato! Grazie, 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 grande maestro Adriano Pennino, grande Adriano, perché questo giusto accorisce dei talenti immensi e purtroppo però, quando il talento è tanto, l'invidia è troppa. Non avremo la scelta, non avremo la scelta, non avremo la scelta, non avremo la scelta, metteremo le cose a posto, appena questi si distraggono un attimo coi conti, noi gli tiriamo le somme e verrà fuori un numero esagerato. a Roma, a Parigi si chiama uscite pure e purtroppo c'è anche questo fatto di dovere in qualche modo allinearsi questi social che cosa hanno fatto? sono delle lavanderie sport delle lavanderie antigeni che non producono anche questo sento di autocritica e di autocensura che tanto sono utili perché ci inseriscono mi ricordo la maglietta arancione? è la pischella c'è la maglietta arancione c'è il cugino c'è il cugino poi c'è tanti amici non lo conosco non lo conosco l'accanginografia non lo sai ma se non è venuto mai in sogno è raggiante è bello come il sole è buono no? e poi lui ha meritato quello che ha meritato senza raccomandazioni è andato è andato senza passare per l'unica perché lui non giocava monopoli più non saprà mai le cose per dire senti io ti faccio tanti amici ma tu canti ok no e fai sempre un pezzetto no non passa bravo 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 le tante sfumature social le ignorano fabbriche di mostri quelle state attenti con la roba sopra polizianale guardare sì osservare più che chi è? io Tarzan mi sembra per tutti Tarzan c'è un'aliana guarda qui a Boscolo mamma mia mi ama meno male pensa se lo chiamano bello lui capito è corpulento insomma io tenessero buono insomma stavo dicendo osservare osservare è un'azione è anche un esercizio meraviglioso vedere questo bambino sul palcoscenico e io sfiguravo con tutto il mio lavorare con tutta la gavetta che mi son fatto di fronte a sta creatura ero niente e questo ci fa capire quanto sia importante valorizzare chi merita dobbiamo essere primi noi a sostenermi gli altri capito? diventiamo veramente amici quando c'è un talento questa definizione ci insegna come si ammazzano le donne capito? una volta corpugnale gliene dai nome perchè i due sono troppo cioè siamo arrivati veramente a un punto orrendo dove la televisione fa veramente vomitare perchè invece di essere un animale didattico si serve proprio a stimolare i danni a riportare e dove c'è violenza a riportare la serenità ed è una roba importantissima lo dobbiamo fare anche nei condomini questo discorso poi diciamo ma la società primaria e la famiglia se le modifiche non le attuano noi con un senso anche civile di poter in qualche modo se c'è da rinunciare che una donna è in pericolo bisogna alziamo sto cavolo di telefono bravo 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 è una dimostrazione proprio di resistenza quando uno dice sono testato e voglio esistere voglio esserci e questa è la cosa più bella che mi sono in qualche modo riproposto di godermi quando il mio calendario mi ha finalmente riportato nel sud perché non avevamo prima gli spazi delle volte non si fanno le serate così chiamate nel sud perché i biglietti costano troppo e la colpa non è probabilmente degli artisti non lo dico per difendere una categoria ma perché purtroppo se gli spazi non sono abbastanza capienti ovviamente tutta la mole economica di una tornella viene da dover fare conti anche con questa esigenza dove il pubblico non deve patire perché parliamo comunque di cultura anche se la musica è leggera la chiamano la nostra ma è comunque cultura e noi dobbiamo offrire al pubblico l'eleganza la semplicità